e guarda caso non appena si conclude la giornata di serie A sui giornali sui giornali cosa? sui giornali si fanno nomi fantasmagorici si accostano nomi ad una squadra l'Inter piomba su Moise Ken quando ci possa essere di vero francamente non lo so addirittura ci sarebbe già stato un incontro tra Marotta, Ausilio e Raiola la gente del giocatore perché giustamente appunto il giocatore nel 2020 rimarrebbe senza contratto al momento guadagna 800.000 euro 800.000 euro che sono spiccioli veramente spiccioli come no però fatto stare che già la Juventus è pronta a rinnovare il contratto per 4 anni e dargli a quattruplicargli l'ingaggio quindi 800 per 4 sarebbe 3 milioncini e 2 ho sbaglio 3 milioncini e 2 per un giocatore che però ancora veramente non ha espresso nulla per carità è entrato in campo ha subito fatto gol ma quando hai già una squadra che ti dà tutto l'occorrente non è che puoi dire di aver dimostrato qualcosa sicuramente è un grandissimo giocatore per carità di dio però già 3 mila e 2 per un giocatore del genere ne varrebbe la prena offrirgli un contratto del genere all'Inter non lo so perché se spendi tutti questi soldi per lui solo per l'ingaggio poi magari ti bruci già tutte le carte in chiave calcio mercato parliamoci chiaro e onestamente non credo che lui sia il giocatore che ci serve a noi in attacco se e rimarrà a Spalletti io non sono convintissimo non sono sempre più convintissimo comunque poi ci arriviamo se e rimarrà a Spalletti appunto a noi serve un'ala un'ala pura un'ala che sostituisca Perisic ovviamente un'ala che sostituisca Perisic che io non la vedo non lo vedo proprio ala io che comunque lo vedo punta un'ala tipo ci servirebbe un chiesa per esempio proprio un'ala ala ala chiesa e un'ala ed è uno di quelli che ti servirebbe ma chiesa chiesa anche farebbe felici anche i non credenti giusto per fare il simpatico e quindi non lo so francamente non lo so fatto sta è un bel giocatore Ken è un bel giocatore assolutamente ma la Juventus non è sciocca non è sciocca quindi la vedo più ripeto un nome di mercato giustamente finita la giornata di serie ce lo buttiamo un nome su questi giornali e giustamente Ken all'Indo vabbè però staremo staremo a vedere la cosa certa invece sono le parole di Marotte che lei c'è l'intervista quindi è una cosa certa e gli chiedono ovviamente su spalletta e lui per l'ennesima volta conferma che noi ce l'abbiamo l'allenatore e siamo sereni del suo operato e quindi rimarrà cioè io non lo so non credo non credo veramente ci siano le possibilità che l'Inter vada su Conte o su Murigno come si dicevano non credo ci ho voluto sperare ci spero ancora per carità ma non credo io non credo io sono sicuro che rimane spalletti anche perché come ho già espresso in passato questo con questa squadra l'allenatore questo può fare niente di più niente di meno qualche punticino in più sì magari si poteva passare il turno di Champions e che sarebbe stato mica poco però questi questi sono questi sono i risultati non passare Girona alla fine non è stato comunque una cosa drammatica perché poi ripetiamo ancora una volta Tottenham e Barcellona si stanno giocando la semifinale vuol dire che sono tra le quattro squadre più forti d'Europa questi sono dati sono dati non è che lo dico io quindi sì no ma non contano no conta conta vuol dire che sono tra le quattro squadre più forti d'Europa e conta altro che come il valore dell'Ajax per esempio l'Ajax ha eliminato la Juventus Real conta dirlo cioè ha eliminato Juventus Real vuol dire che è forte e se si trova in semifinale l'Ajax vuol dire che è forte e tra le quattro squadre nonostante sia stata una sorpresa ma adesso è tra le quattro squadre più forti e conta dirlo non è la stessa cosa non lo si può guardare con gli stessi occhi l'Ajax non lo si può guardare con gli stessi occhi che lo si guardava nel girone assolutamente perché adesso ha fatto due imprese incredibili quindi conta per dire che conta il piazzamento poi delle squadre europee conta e va bene questo questo ripeto secondo me rimane spalletti anche perché alla fine sappiamo bene che sostituirlo sarebbe una spesa incredibile questo colicola rimane spalletti rimane spalletti rimane spalletti pazienza vediamo un pochettino come vanno le cose anche perché poi se non dovesse raggiungere la Champions perché ancora non è che c'è nulla di certificato se comunque non dovesse raggiungerla poi se lo sostituisse un allenatore non credo che lo potrebbe sostituire un Murigno Conte nel caso non si vada in Champions quindi siamo sempre là il discorso è sempre quello niente questa è la mia opinione la mia veduta fatemi sapere la vostra sotto nei commenti l'Inter piomba su Moise Ken un grande abbraccio da Neschio